un po' a sfilare ma in maniera non troppo aggressiva e io l'ho voluto indossare anche, perché no, con una bella gonna e voi mettetele chiaramente anche un bel paio di collane visto che fuori fa freddo, qui si muore di caldo e io ho voluto non mettere il collane in questo caso però pensiamolo proprio magari con un bel vestito ampio pensatelo anche con un bel jeans un po' più aderente un jeans invece di quelli belli ampi un po' alla boyfriend quindi a vita alta con la struttura bella dritta un pantapalazzo anche, perché no? cioè questo deve essere secondo me l'acquisto per voi perché qui in questo 62 il codice quindi vi invito per intenderci siamo sulla qualità più o meno di Amy Kestem a mio parere vedete mi siedo così sono più comoda anche a mostrarvela vedete allora qua vi arriva la sua borsa, la sua sacca per proteggerla poche poche, secondo me è una rate da 44 euro e 40 centesimi e non solo, è reso anche stato esteso fino al 25 di gennaio quindi voi potete fare con il vostro marito, con il vostro amante, chi che sia sto scherzando insomma con chiunque voi vogliate però è anche una buona opportunità di poterle pagare semplicemente con calma ed è un ottimo modo di fare un bel regalo di una grande qualità Siamo di nuovo insieme, vi ritrovate in diretta su QVS Italia Martina Fascutti insieme in questa ora dedicata proprio allo shopping natalizio allo shopping che potete fare qui da noi con proposte veramente molto belle, allettanti in quest'ora stiamo parlando di calzature, di una bella protezione perché ci funge anche proprio un po' è creata, abbiamo un pochettino di attesa al call center quindi io vi ringrazio davvero per essere in così tante però secondo me questi sono acquisti ottimali da fare adesso perché? Perché avete le rate perché le rate scadranno alla mezzanotte di questa sera perché questo è l'unico show in cui potrete assistere e comprare tante belle proposte e novità assolute perché ci sono tante rate e soprattutto pagare se volete proprio farci un bel pensiero e soprattutto se volete dare comodità perché io do che ha questo contrasto di lacci invece sul bordeaux mamma mia ragazzi allora più corta come io in questo caso cioè guardate, è bella o no? grrr è molto bella è questa e soprattutto è molto strong mi piace perché però mi dico non è scomoda come scarpa sposto un po' i capelli che magari non si sente più il mio microfono però con una bella gonna delle calzature e parliamo di Agile by Rucoline questo volando nel nevi 36,5,41 limitato così come nel nero abbiamo visto il 41 e se non vedete bene Stefania io vi dirò tra i due colori preferisco in assoluto il top perché e i vostri bambini proprio si divertiranno questa sera alle 21 avremo un'ora totalmente dedicata di Skechers io vi saluto ci vediamo nuovamente settimana prossima e vi auguro un buonissimo shopping grazie a tutti delle calzature e parliamo di Agile by Rucoline questo volando nel nevi 36,5,41 limitato così come nel nero abbiamo visto il 41 e se non vedete bene Stefania io vi dirò tra i due grazie a tutti